L'Abruzzo è una delle primissime regioni del centro-sud ad aver istituito il tavolo regionale sull'affido, uno strumento ancora poco conosciuto delle famiglie, lo chiediamo all'assessore Marina Lasklog. Sì, purtroppo in Abruzzo poco si conosce lo strumento dell'affido e infatti quando le famiglie hanno dei problemi e i bambini devono essere allontanati, vengono allontanati e non affidati ad altre famiglie ma molto spesso vanno nelle strutture. Eppure le famiglie affidatarie, già affidatarie, hanno quasi tutte delle esperienze positive però in effetti sul territorio poco è conosciuto questo strumento giuridico che consente ai bambini di avere un'altra famiglia vera e è sicuramente un'esperienza positiva anche per chi accoglie queste storie, queste bambine e in qualche modo accoglie anche la famiglia dal cui il bambino è stato allontanato perché poi il lavoro bisogna farlo anche con le famiglie di origine. Questo tavolo servirà per organizzare un lavoro migliore sul territorio, di questo tavolo faranno parte gli equip, l'equip affido, sono quattro, una per ogni provincia, farà parte l'Anci perché i comuni sono importanti, perché l'equip affido sono dentro i comuni perché i cittadini poi vanno lì a chiedere informazioni, ad essere supportati, il Tribunale dei Minori perché poi il Tribunale è un attore protagonista nella rete dell'affido perché è quello che decide quando e come allontanare i bambini e naturalmente anche le associazioni di famiglie affidatarie.